Stamattina si è tenuta in corso del popolo a Chioggia davanti al municipio la manifestazione a cui le minoranze hanno invitato la cittadinanza grazie a un volantino, sollecitando la presenza dei concittadini in quanto il tema trattato sarebbe stato di forte impatto. Il trasporto pubblico locale che mai come ora sta vivendo un momento di forte crisi, creando disagio a tutta l'utenza. Si tratta della seconda manifestazione realizzata in tal senso, quindi si aveva più o meno idea di quale sarebbe stata la partecipazione, avendo come punto di riferimento la prima realizzata circa un mese fa. L'area concessa non era molto vasta, limitata da un lato da una vettura. Il pubblico si è disposto attorno agli oratori, ma il cerchio che si è creato naturalmente poco alla volta si è allargato mano a mano che il pubblico si aggiungeva. Le persone hanno finito quindi con l'occupare anche buona parte della carreggiata. La manifestazione è però cominciata alle 10 con il corso del popolo aperto al transito a ZTL ancora inattiva. Le vetture avevano quindi tutto il diritto di passare, erano le persone che stavano seguendo la manifestazione ad occupare un'area che in quel momento non sarebbe dovuta essere occupata, ma aperta al traffico. Gli organizzatori, a dire il vero, hanno invitato gli astanti a farsi più appresso, ma non sono state prese altre misure per la loro salvaguardia. A un certo punto si è innescato un alterco tra l'autista di un mezzo e il pubblico, situazione che ha fatto intervenire i poliziotti presenti che poi si sono posti come cordolo in modo da dividere la folla dalle vetture in transito. Ma se fosse accaduto qualcosa a causa di un veicolo di passaggio, di chi sarebbe stata la responsabilità? Gli organizzatori effettivamente non hanno previsto un'area limitata entro la quale il pubblico si potesse posizionare, mentre, d'altro canto, chi ha dato l'autorizzazione all'uso del plateatico dovrebbe aver saputo che si trattava di una manifestazione con la presenza di un totto di persone che dovevano essere gestite per quanto riguarda gli spazi che avrebbero occupato. La fortuna è che non sia accaduto nulla, ma si è comunque trattato di una leggerezza da parte di qualcuno. La folla riversata in strada non aveva certo alcuna sicurezza, cosa che dovrebbe essere comunque garantita, come doveva essere garantita la viabilità che non era regolata da nessuno se non dei poliziotti che in un secondo tempo sono intervenuti. Inutile recriminare l'assenza della ZTL che sarebbe comunque partita alle 11 a manifestazione quasi conclusa. Ora la ZTL in vigore è questa e questa doveva essere rispettata. Probabilmente l'autorizzazione doveva essere data a ZTL chiusa o fare in modo che le persone non potessero invadere la carreggiata, magari con transenne, aumentando lo spazio riservato sotto il municipio, magari vietando il parcheggio in qualche stallo. Stavolta è andata così. Per le prossime manifestazioni, visto che l'intento è di farne altre a seguire, si organizzi tenendo un occhio di riguardo a dove collocare il pubblico, garantendone l'incolumità, rispettando però anche le esigenze della popolazione che intende transitare, se possibile, se è concesso, sui propri mezzi. Grazie a tutti!